Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida breve, io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò dove si trova la statuetta di Kalus. Quello che vi basterà fare è avviare recensione per dono, dopodiché vi basterà avanzare fino a quando non piazzerete l'ultimo amplificatore per aiutare Zavala. Una volta messo l'ultimo amplificatore dovrete effettuare lo stesso percorso che vedrete in video e la statuetta di Kalus la troverete in alto. Detto questo spero di esservi stato di aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.